Circa 500 studenti teramani del quarto anno superiore con i loro docenti parteciperanno il 6 dicembre prossimo ad Orienta Giovani, un incontro tra i rappresentanti del tessuto industriale locale e la scuola organizzato da Confindustria e gruppo giovani imprenditori Teramo in collaborazione con l'ufficio scolastico provinciale sul tema dell'alternanza scuola-lavoro che prevede per legge 400 ore di formazione presso le aziende per gli istituti tecnici e 200 ore per i licei. I ragazzi si aspettano tanto perché si aspettano intanto di conoscere quelle che sono le realtà produttive che abbiamo nel territorio interamano e che non conoscono e auspicano invece di conoscere e soprattutto di lavorarci insieme, di capire e speriamo che questo evento possa avere anche una specificità, quella dell'orientamento. I ragazzi hanno bisogno di orientamento, hanno bisogno di capire cosa vogliono fare da grandi e quindi noi ci aspettiamo anche questo. Il programma dell'iniziativa che si terrà al Parco della Scienza prevede un incontro preliminare tra i dirigenti scolastici e i vertici di Confindustria per tracciare un percorso sinergico tra tutor scolastici e tutor aziendali e poi un focus specifico sul tessuto industriale abruzzese. Cercheremo di creare insieme con le scuole l'orientamento e i giorni. Devo dire che la legge va incontro a questo, cioè un colloquio costante tra scuola e impresa. devo anche dire che con molta soddisfazione qua ho visto una grande apertura da parte dell'istituzione scolastica provinciale e regionale. Orienta Giovani si concluderà con l'incontro diretto tra studenti e rappresentanti delle imprese. Saranno questi ultimi a spiegare le diverse realtà produttive e a motivare i ragazzi verso una scelta professionale futura. Lei è un'imprenditrice, ha tanta esperienza. Ecco, quando incontrerà questi ragazzi, cosa dirà loro? La prima cosa? È una grande opportunità. Noi all'epoca in cui abbiamo fatto la scuola non abbiamo avuto questa grande occasione. È un orientamento. Si può in questo modo vedere con mano quella che è il mondo del futuro, il mondo delle imprese, cosa che in questo momento forse è ancora un po' vista un po' come distante dalla scuola. In questo modo si possono avvicinare, possono vedere quello che c'è da fare all'interno di un'azienda e noi siamo lì un po' a guidarli nella scoperta di quello che può essere il loro futuro.